Adriano Favre, si sta per concludere la gran corsa con la Patrouille de Glacier, un primo bilancio in corsa? Assolutamente positivo, fino adesso abbiamo avuto già 5 gare con massimo successo, con massima presenza di pubblico, di atleti soprattutto. Adesso chiudiamo con questa Patrouille de Glacier, speriamo con delle condizioni meteo accettabili perché in questo momento sono veramente un po' difficili, però abbiamo fiducia che la grande organizzazione svizzera riesca a dominare un po' anche queste condizioni di nevicati abbondanti attuali. Le gare più belle, le gare che più piacciono agli atleti, ha una vetrina importante come Pro Winter? Sì, diciamo così che abbiamo avuto la fortuna di avere questo invito da parte di Pro Winter, questa attenzione nei confronti della grande corsa, del movimento, di questo scialpinismo autentico. Abbiamo approfittato di questa opportunità, siamo venuti qui a presentarci e a cercare di far capire al mondo qual è il nostro obiettivo e qual è la bellezza del nostro circuito e speriamo appunto che tutto possa concretizzarsi ancora con un prossimo giro 2013-2014. Per stilare degli obiettivi è ancora presto ma forse non troppo. Dove vuole andare questo circuito? Ma noi per il momento non è che vogliamo sostituirci a nessun altro, né alle federazioni né a chi che sia. Noi abbiamo scelto una nostra strada, vogliamo percorrerla e probabilmente nel prossimo futuro cercheremo di aprire almeno una gara nuova per ogni anno. Però diciamo così non abbiamo intenzione di espanderci più di tanto, vogliamo portare avanti il nostro discorso, farlo bene e poi la storia dirà che cosa c'è da fare.